Cari amiche e cari amici, articolo di Francesco Lamentola, titolo L'attacco alla famiglia è odio suicida contro la vita. Da quando è stata approvata in Parlamento la legge numero 194 sull'aborto, confermata poi da un apposito referendum nel quale senza dubbio anche molti cattolici hanno votato per la sua conferma, a ciò spinti da illustri esponenti del clero come padre David Maria Turoldo, ci siamo talmente assuefatti alla mentalità abortista che i milioni di aborti da allora praticati e che tuttora proseguono nel silenzio generale non ci turbano affatto. Ci turbano, quelle sì, le sorti dell'ennesimo barcone, di cosiddetti profughi, naufraghi e il fatto che vengano trattenuti per ragioni di sicurezza tre, quattro giorni senza poter rentrare in porto, allora ecco che le frotte di giornalisti parlamentari, armati di giubbotti salvagente, macchine fotografiche, telecamere, salgono a bordo per documentare la terribile odissea dei poverini. Ci turba, anche, che ogni tanto qualcuno di questi barconi faccia realmente naufragio. Realmente? Allora il signor Bergoglio si mette a tonare ancora più del solito. Blatera, Dio ci chiederà conto di quei poveretti, ma cosa avete fatto? Cosa state facendo? Dei nascitori raschiati via prima di venire al mondo, però, non parlano né i Turoldo, né i Bergoglio, né i cappellani a bordo delle navi delle organizzazioni non governative. E se qualcuno, per caso, tenta di portare su quel dramma la loro attenzione, subito si adombrano perché sostengono di si vuole distrarre con questioni moralistiche, mentre lì sulle acque del Mediterraneo c'è tanto da fare per quella povera gente. Stesso discorso, per i diri dello spettacolo. Richard Gere, Antonio Banderas, vanno a farsi belli a bordo delle navi, distribuendo acqua, medicinali, o come Roger Waters dei Pink Floyd, che ha munito gli italiani dicendo loro, beh, state tranquilli, i migranti non vengono sicuramente a rubarvi la pizza. Tutti d'accordo con Bergoglio, dunque. Tutti d'accordo, ma guarda che coincidenza, anche con George Soros, la sua Open Society Foundation. Tutti d'accordo con la finanza globalista, con la stampa ai governi globalisti, tutti concordi nel parlare solo di migranti, oppure di Covid-19, però mai, assolutamente mai, di aborto. Se non eventualmente, per proporre, come è accaduto in Francia, che lo si possa legalmente praticare, fino al nono mese di gravidanza. Ah, che anime belle, che cuori sensibili, parlare dei poveri migranati. Sì, 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 ma di feti raschiati via e destinati alla produzione industriale di vaccini e creme di bellezza? No, argomento tabù. L'aborto, peraltro, è solo la forma più clamorosa che ha assunto a partire dagli anni settanta l'attacco concentrico contro la famiglia. Si è sviluppato su diversi piani, giuridico, medico, psicologico, culturale, e poi, quando è stato introdotto il divorzio e cancellata la patria protestà, si è stabilito il femminismo per decreto e equiparate, in pratica, alle convivenze e al matrimonio, sotto la denominazione di unioni civili. Infine, portata l'ideologia gender negli asiri, nelle scuole, orate le leggi anti-omofobia, che in pratica imbavaigano chiunque osi definire la famiglia naturale come fermata da un uomo e una donna. I nostri genitori, i nostri nonni, non reclamavano diritti, affrontavano sacrifici, a volte durissimi, per amore dei figli, dei nipoti, per le generazioni a venire. Tutto il contrario della cultura edonista dei nostri giorni, basata su una serie interminabili di diritti, riassumibili nel diritto supremo che ricomprende tutti, il diritto alla ricerca individuale insindacabile del proprio piacere. Oggi si considera un razionario, un represso, chiunque osi parlare di famiglia, doveri, responsabilità, senza considerare che tutte le società e tutte le civiltà che si sono succedute nella storia hanno posto in primo piano la responsabilità e lo spirito di sacrificio, compresa la disponibilità di dare la vita per la difesa dei propri cari, della propria fede e della propria patria. Ma nessuno si illuda. Se una società non sa levare i suoi membri nell'idea di sacrificio, compreso il sacrificio supremo, il suo tempo è contato. I greci sono stati grandi perché non hanno avuto paura di morire, lo hanno dimostrato alle termopili. E noi, di quali sacrifici saremmo capaci oggi? Che siamo sprofondati fino al collo nella ricerca esasperata del nostro piacere individuale, nel disprezzo più totale delle leggi di natura e della stessa morale naturale. Oppure c'è qualcosa di etico, ad esempio, nel stare lì a prenotare a un bambino questo mi piace, questo non mi piace, su un catalogo, lo preferirei biondo, lo preferirei con gli occhi chiari. Insomma, prenotare un bambino su un catalogo e portarlo via alla madre, pagandolo però in contanti. Sacrifici. Ma quali sacrifici sappiamo più fare? Siamo attanagliati da una paura folle di morire. Lo dimostrano tutti questi zombie che se ne vanno in giro con la mascherina, guidano con la mascherina, passeggiano per la strada e pedalano in bicicletta, ma sempre indossando scrupolosamente la mascherina. E lo attestano questi vecchi ottantenni, novantenni che passano per la strada aiutandosi col bastone. Si appoggiano il braccio a una badante e intanto indossano la mascherina e rifiutano di ricevere le visite dei nipotini. Sì, ho paura di morire, potrei essere contagiato da mio nipote. Siamo e sono giunti all'età in cui morire si deve. È solo questione di giorni, ma vogliono rifiutare questo, non vogliono adattarsi all'idea e preferiscono sopravvivere in condizioni allucinanti, piuttosto che correre il rischio, così loro credono, di rimanere contagiati dal virus e potersi ammalare mortalmente. Che strano, vero? Prendersi un'influenza a 80-90 anni, ma che strano! Evidentemente, essi ritengono di aver acquisito per statuto il diritto all'immortalità. Ecco a cosa conduce la politica di diritti illimitati e rifiutare l'idea della morte a voler vivere a ogni costo anche un solo giorno di più, anche una sola ora di più. Indossando la mascherina, che fa malissimo respirando la propria anidrite carbonica e affidandosi ai sedicenti comitati tecnico-scientifici, pronti a sottomettersi a tutte le loro assurde e criminali disposizioni sanitarie. Eh sì, è triste, molto triste. Vedere fino a che punto il rifiuto della morte priva le persone del buonsenso, della retta ragione, della stessa dignità personale, specialmente quando si tratta di persone anziane dalle quali ci si aspetterebbe un esempio di saggezza. E tutta questa inarrestabile deriva morale e psicologica ha avuto inizio con l'introduzione della legislazione abortista, che finalmente ha preso l'Italia simile agli altri paesi civili, progrediti, laici ed emancipati. Ci piace riportare qui alcune semplici ma lequanti osservazioni a proposito della famiglia rurale, oggi scomparsa, in suoi caratteri tradizionali, sì, ma che si possono estendere alla famiglia in generale. Sono osservazioni di Don Giovanni Brotto, che ebbe modo di vedere da un punto di osservazione privilegiato, come la parrocchia di un grosso centro rurale, la graduale ma inarrestabile trasformazione sociale e culturale che sarebbe poi sfociata nelle forme attuali di modernizzazione. Scrive Don Borotto «Chi non ama, chi non apprezza e rispetta la vita, non la merita. La vita, una realtà immensa, impagabile, ci fa usare, godere, gustare le cose belle e buone dell'universo, tutto il creato e per la festa e la gioia dell'uomo fa di ogni uomo un maestro di canto in mezzo a un coro sterminato di alberi, fiori, acqua e terra, luce, voli, canti, animali, cielo, stelle, uomini. E tra tutti questi esseri il primo posto è dei bambini, innocenti come angeli. Riempiono il cuore di tenerezza, di bontà, sono i messaggeri, i vichiari della bellezza di Dio. Ma la vita rimane un dono misterioso, un dono smisurato. E noi non siamo in grado di capire se valga o no la pena di averla ricevuta, di trasmetterla. Un solo essere ne è capace, colui che ne fu l'artefice, Dio. Egli ha giudicato che essa è un bene e per questo ce l'ha donata. all'uomo resta solo di accoglierla, accettarla, qualunque peso, dolore, dramma essa comporti. I figli non nati sono il rimpianto di tutti gli amori sbagliati e gli egoismi disumani. I figli innocenti, eliminati prima di vedere alla luce, sono il secondo nome della morte. sopprimere i bambini non voluti significa porre le condizioni di una società di morte, senza anima, senza speranza. Sotto il cuore della mamma nasce la vita, nasce l'amore, il rispetto della vita che devono cominciare poi dalla famiglia. E le famiglie rurali hanno una costante l'amore per la vita, il rispetto per la vita. I cristiani sono il popolo della vita, per la vita. È necessario fermare la mano di chi vuole soffocare il vagito di una creatura indifesa, rifiutare il calcolo e il comodo e accettare i valori, prima di tutti, il valore della vita. Eh già, ma la vita, per la cultura progressista oggi imperante, possiede diritti solo quando si tratta di soddisfarne i capricci, le brame, i bizzi, non quando essa, inerme e silenziosa, sta per arrivare ma non è ancora visibile, non trova alcuno che voglia difendere il suo diritto alla nascita. Ed ecco allora la signora Emma Bonino, la palatina della legge sull'aborto, che si vantò a suo tempo di aver praticato le stessa qualcosa come diecimila abborti rudimentali, servendosi di una pompa di bicicletta. Ed ecco il sedicente Papa Bergoglio che la elogia, evviva! Lei è una gran donna italiana, ha detto il Papa. Ma di che stupirsi, se il principio del piacere diviene la legge suprema e il fine stesso della società, bisogna aspettarsi che esso assuma le forme più sfrontate disgustose e perfino criminali. Prossima frontiera è il riconoscimento legale della pedofilia. Se qualche conta è il piacere, ma cosa volete che sia? Stabilire un'età minima per autorizzarlo sotto qualsiasi forma. Proprio siete ancora nel medioevo. È una pura formalità, una tendenza ripresensiva che va eliminata al più presto ed ecco il cinema e la televisione che si fanno avanti come al solito per preparare il terreno. Ecco i film Netflix Cuties dedicato alle undicenni pruriginose che sculettano, che stanno lì, si agitano, si minude, senza pudore per la gioia di un pubblico di voyeur, potenzialmente pedofili. L'ennesimo stratagemma per sessualizzare i bambini pre-adolescenti e per soliticare i più bassi istinti del pubblico. Perché di pubblico si tratta? È di conseguenza di una questione di soldi, di profitto. Parallelamente ecco venire avanti l'eutanasia. Se la vita è fondamentale e il diritto al piacere deve pure esistere il diritto a rifiutarla quando produce dolore, quando la paura della malattia e della morte diviene insopportabile. E così piano piano, secondo l'ormai ben collaudato schema della finestra di Overton, ci stiamo avvicinando al limite estremo, il limite oltre il quale ci sono solamente pazzia, autodistruzione, già ci siamo arrivati vicinissimi, manca solo l'ultimo passo. Oh signora, abbi pietà di noi, non siamo più degni di essere chiamati tuoi figli, trattaci come gli ultimi dei tuoi servi e tuttavia ascoltaci, porgici l'orecchio al nostro grido d'aiuto, da soli siamo già perduti. Bene, cari amici e cari amici, pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo torro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.